Preparatevi per un viaggio entusiasmante nel mondo degli affari di Fedez, il rapper da late di successo. Siete pronti a scoprire il segreto dei 20 milioni nascosti dietro alla madre? Allora, tenetevi forte, perché questa è una storia che vi farà rimanere con il fiato sospeso. Mettete un like ed iscrivetevi al canale Italia Reporter 24. Fedez, il re del rap italiano è stato preso nel mirino dell'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, che ha fatto delle dichiarazioni scioccanti. Ma che cosa ha svelato? Scopriamolo. I fatti sono i seguenti, Fedez, noto per le sue canzoni di successo e la sua presenza su X-Factor e YouTube, sembra essere coinvolto in un intricato mondo di affari amministrati dalla madre, Anna Maria Berinzaghi. Secondo Fabrizio Corona, il rapper ha raggiunto i suoi primi 20 milioni di fatturato attraverso una rete di società gestite da sua madre. Ma le cose si fanno davvero interessanti quando esaminiamo nel dettaglio cosa fa parte di questo impero finanziario. Cosa pensate di questa gestione finanziaria? Vi sembra giusto che Fedez non tocchi un centesimo di quanto guadagnato? Ditelo nei commenti. Ebbene sì, Fedez vale 20 milioni, ma non ne guadagna che 6. Questo è ciò che l'ex re dei paparazzi ci ha svelato. Ma come fa questo a succedere? Il mistero si dipana quando scopriamo che Fedez controlla una holding chiamata ZFSRL, gestita da sua madre e che a sua volta controlla varie attività, dalla noleggio di veicoli di rappresentanza all'agenzia di promozione. Un vero affare articolato che vale milioni di euro. Ma c'è di più. Secondo Fabrizio Corona, la madre di Fedez ha scelto deliberatamente di non far mettere un centesimo del suo guadagno in tasca al figlio. La domanda sorge spontanea. Perché spendere i tuoi soldi quando puoi spendere quelli di tua moglie? Ma ciò che rende questa storia ancora più incredibile è il fatto che gli utili sono stati accantonati nelle varie società a riserva straordinarie e ho copertura delle perdite pregresse. Il i-gruppo Ferragnez sembra avere un patrimonio familiare che sfiora i 20 milioni di euro. Incredibile, vero? Se questa storia vi ha lasciato a bocca aperta iscrivetevi al nostro canale per non perdere altre storie affascinanti come questa.